Cari amici, nel silenzio generale si sta svolgendo Defender Europe 2020, un'imponente esercitazione militare statunitense a cui partecipano, come subordinate, le truppe della NATO. I numeri di uomini e mezzi impegnati sono enormi ed è sta preoccupazione che parte delle esercitazioni si svolgano vicino ai confini russi. 37 mila soldati e armamenti schierati a due passi dalle frontiere russe. Più che un'esercitazione sembra una vera e propria provocazione verso Mosca, anche se ufficialmente le esercitazioni sono volte ad esaminare le capacità dell'alleanza transatlantica di inviare soccorsi in Europa da un paese ad un altro. L'esercitazione iniziata in questi giorni costerà 340 milioni di dollari agli Stati Uniti e terminerà a maggio. L'esercizio Defender Europe 2020 è un esercizio multinazionale guidato dagli Stati Uniti con la partecipazione della NATO. È il più grande dispiegamento di forze degli Stati Uniti in Europa degli ultimi 25 anni, con 20 mila soldati schierati direttamente dagli Stati Uniti in Europa. Sullo sfondo, da una parte, la dottrina del First Strike Atomico, che intende rendere operativa la minaccia di un attacco nucleare improvviso in grado di paralizzare le capacità di risposta del nemico e di intercettarne quella residua con missili intercettori, scudo spaziale in Polonia e Romania, e dall'altra le elezioni americane del 2020, con Michael Bloomberg, candidato che utilizzerà la sua enorme potenza finanziaria per raggiungere l'obiettivo di sostituire Trump e muoversi con più determinazione dei suoi predecessori verso la grande guerra. Questo senza contare che in Europa esiste anche il programma Cooperazione Strutturata Pesco, avviata dall'Unione Europea. Uno degli scopi principali di questo programma è l'attuazione del piano di modernizzazione dell'infrastruttura di trasporto dei paesi dell'Unione Europea, che deve soddisfare tutti i criteri tecnici per il trasferimento senza ostacoli di attrezzature militari pesanti in tutta Europa, in particolar modo lungo la direttrice da ovest verso est, dai porti dell'oceano atlantico ai confini con Russia, Ucraina e Bielorussia. Ovviamente la Russia non resterà a guardare. Queste le parole del ministro degli esteri russo. La Russia reagirà all'esercizio militare degli Stati Uniti in Europa Defender 2020, che si terrà a marzo, ma lo farà in modo da escludere rischi inutili. Gli Stati Uniti desiderano vedere misure di ritorsione che consentano di aumentare ulteriormente le tensioni. È interessante notare che tutto quello che facciamo in risposta alle minacce della Nato, per la nostra sicurezza, lo facciamo esclusivamente nel nostro territorio, da chi si difenderanno. Sostengono che devono difendersi non dalla Russia, ma da un avversario il cui potenziale è identico a quello della Nato. Basta dare uno sguardo alle statistiche ufficiali, non nostre, straniere, riguardanti le spese militari. L'equipaggiamento militare e tutti i tipi di armamenti, senza alcuna eccezione, per vedere che i soli membri europei della Nato, esclusa la componente americana, superano le nostre forze armate circa del doppio. Non ho idea di dove abbiano trovato un avversario simile. Il budget complessivo stanziato dai 29 paesi membri della Nato per la difesa è pari a circa 946 miliardi di dollari e nei prossimi anni potrebbe superare i 1000 miliardi. A guidare la classifica delle spese militari vi sono gli Stati Uniti con 610 miliardi. Il numero complessivo di forze armate della Nato è di 3,3 milioni di soldati. I primi tre paesi in tal senso sono gli Stati Uniti, 1,3 milioni di soldati, la Turchia 500 mila e la Francia 203 mila. Gli eserciti più piccoli sono quelli della Lettonia 5.310, del Montenegro 1950 e del Lussemburgo 900. L'Islanda, paese membro della Nato, addirittura non ha un esercito. A possedere armi nucleari nella Nato sono gli Stati Uniti 6.600 testate, la Francia 300 e la Gran Bretagna 215, ovvero in tutto 7.115 testate, mentre la Russia, secondo Wikipedia, avrebbe, appena si fa per dire, circa un milione di soldati. Defender 2020 si svolgerà sul territorio di 15 Stati, tra cui Germania, Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia e Georgia. Il centro logistico delle esercitazioni sarà in Germania, in quanto è uno snodo per i trasporti, da cui è possibile spostare le truppe per tutta l'Europa. Una parte significativa delle truppe e degli equipaggiamenti dovrebbe essere dispiegata in Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia. La Lettonia prevede di espandere a livello globale il campo di allenamento di Meza-Matzewiki, da 10 a 2064 ettari, aumento di 200 volte, dopo aver costruito una base di addestramento militare sul territorio. Defender Europe 2020 è una grande opportunità per dimostrare la capacità ineguagliabile dell'esercito americano di proiettare rapidamente le sue forze in tutto il mondo, mentre opera a fianco di alleati e partner in più domini contestati. Tenente generale, vice capo di stato maggiore dell'esercito americano, coinvolti i porti di Belgio, Olanda, Germania ed Estonia. Ma in Germania c'è chi ha criticato aspramente i piani statunitensi. È una nuova provocazione pianificata. I concetti di de-escalation, pace e disarmo, non esistono più nel linguaggio della Nato. È prevista la sperimentazione di nuove tecnologie militari dotate di intelligenza artificiale, armi ipersoniche e robotica. Condurre un'esercitazione dura e realistica insieme ai nostri alleati e partner in Europa migliora le relazioni professionali che creano fiducia reciproca e aumenta la nostra interoperabilità, prontezza e capacità di dissuadere collettivamente potenziali minacce. Tenente generale, comandante generale dell'esercito americano in Europa. Alcune unità come il secondo BCT e il terzo ID stanno portando la propria attrezzatura che comprende veicoli blindati. Ma 13.000 pezzi di equipaggiamento provengono da stock preposizionati nel continente, in Germania, Paesi Bassi e Belgio. In caso di conflitto, i binari ferroviari estesi per caricare e scaricare rapidamente veicoli corrazzati, accumulare scorte di carburante e cache di munizioni, per fornire forze e hub logistici e di intelligence, per guidare il processo, sarebbero fondamentali per attraversare l'Europa. Due anni fa Defender 2020 non sarebbe stato possibile perché gli stock preposizionati non erano sufficienti. Da allora Army Material Command ha sviluppato un piano per costruire le sue scorte che equipaggiano le unità con sistemi di comunicazione, sorveglianza e armi. Le scorte preposizionate si trovano in grandi magazzini controllati dall'umidità e in spazi di stoccaggio in luoghi come Juhlmann, Germania, Eichelschowen, Paesi Bassi e Livorno, Italia. La Nato prevede di trasformare una città della Polonia centrale in un centro di stoccaggio chiave per l'equipaggiamento da combattimento degli Stati Uniti. La Polonia non è solo un buon servitore degli Stati Uniti, ma è l'unico a rispettare i parametri di spesa Nato ed è impegnata a spendere miliardi di dollari per creare l'infrastruttura a supporto delle implementazioni statunitensi aggiuntive. Nessun alleato della Nato ha fatto di più per migliorare la sua posizione difensiva e sostenere il ritorno delle forze statunitensi in Europa rispetto alla Polonia. L'anno scorso Varsavia ha pubblicato un nuovo piano di modernizzazione tecnica per il 2026 che si impegna a spendere quasi 50 miliardi di dollari in aerei da combattimento di quinta generazione, UAV, elicotteri d'assalto, missili a corto raggio, sottomarini e sicurezza informatica. Varsavia prevede di acquisire fino a otto batterie di difesa Patriot. Dalla fine della guerra fredda l'aeronautica polacca è passata dalle piattaforme dell'era sovietica agli aerei in gran parte fabbricati negli Stati Uniti a partire dall'acquisizione di 48 F-16. A gennaio la Polonia ha firmato un accordo da miliardi di dollari per l'acquisto di 32 aerei da combattimento F-35A, entrando così nelle fila delle principali forze aeree della NATO. Data la presenza di formazioni corrazzate statunitensi in Polonia, Varsavia potrebbe prendere in considerazione l'acquisizione del M-1 Abrams per sostituire i suoi carri armati russi ormai obsoleti. Un'intera squadra di combattenti di brigata e il loro personale condurrà complesse manovre in Polonia insieme a formazioni alleate. Gli esercizi in Polonia includono Allied Spirit 11 del comando di addestramento del settimo esercito. Quest'anno Allied Spirit includerà una traversata del fiume e si svolgerà nell'area di allenamento in Polonia. Sabre Strike 20 prepara alleati e partner a rispondere alle crisi regionali e soddisfare le proprie esigenze di sicurezza, migliorando la sicurezza delle frontiere e contrastando le minacce. Sabre Strike avrà luogo in Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Impronta Trojan è un esercizio annuale comandato dagli Stati Uniti per le operazioni speciali, guidato dall'Europa che riunisce unità operative speciali statunitensi, alleate e partner. L'esercizio si svolgerà in Polonia. Le unità chiave partecipanti includeranno le unità rotative Atlantic Resolve, gli Stati Uniti Marines e il gruppo tattico Enhanced Forward Presence a guida tedesca. Inoltre saranno testate nuove tecnologie come Trophy che è un sistema di protezione attiva per il serbatoio M1. Sempre secondo gli americani i fatti in breve sarebbero questi. 14.000 soldati si stanno trasferendo in Polonia, 2.000 membri dei servizi statunitensi partecipano a eventi in Polonia, 1.800 veicoli a ruote nell'area di allenamento di Dravsko-Pomorski, 630 veicoli a ruote in altre aree di addestramento in Polonia, 550 veicoli cingolati nell'area di allenamento di Dravsko-Pomorski, 250 tracciati in altre aree di addestramento in Polonia, 12 installazioni polacche in cui avverrà la formazione, 5 nazioni partecipanti in esercizi collegati, lo svolgimento di 3 esercizi negli Stati Uniti collegati a Defender Europe 2020, Allied Spirit 11, Shabola, Impronta Trojan. Facciamo ora qualche considerazione geopolitica leggendo un articolo di Manlio Di Nucci. L'ordine mondiale emerso all'indomani della seconda grande guerra che aveva visto la affermazione e l'esercizio dell'egemonia imperiale degli Stati Uniti è oggi incrinato dal protagonismo di superpotenze globali emergenti, tra cui le maggiori Russia e Cina. Insieme ad altre risultano le artefici di un nuovo ordine multipolare che ha già messo in discussione persino l'egemonia del dollaro, quale unica valuta di riserva internazionale e unica moneta a mediare gli scambi di materie prime sui mercati globali. L'esercitazione darà il via ad una nuova serie Defender che sarà condotta nel Pacifico ad anni alterni per prepararsi a grandi movimenti in entrambe le regioni. Le esercitazioni mirano a rendere operativa la strategia di difesa nazionale che afferma la Russia e la Cina come avversari vicini e alla pari. Venezuela, Iran e Russia, VIR, che hanno le più grandi riserve al mondo di idrocarburi, sono i maggiori fornitori di combustibili fossili della Cina. Quest'ultima, che sul suo territorio dispone solo di carbone, sta nel frattempo preparandosi con un piano governativo energetica alle rinnovabili, che la renderà energeticamente autosufficiente entro il 2050, consentendole di produrre il 90% dell'elettricità mondiale da fonti rinnovabili. Sono previsti investimenti per una cifra pari a 50 mila miliardi di dollari in 30 anni. C'è da pensare che non sia un caso che i paesi VIR subiscano punitivi embarghi tendenti a isolarli dal commercio mondiale. In particolare per Venezuela ed Iran, tali sanzioni economiche mirano a suscitare il malcontento popolare, a sua volta strumentalizzabile dall'esterno ai fini di destabilizzazione politica. Col pretesto della salvaguardia dei diritti umani, tali processi hanno portato a interventi in forma di vere e proprie guerre umanitarie. È così che si sono legittimati quei conflitti militari che negli ultimi decenni hanno portato allo smantellamento di interi stati nazionali, agendo contro l'autodeterminazione dei popoli e del loro autonomo controllo, la sovranità sulle proprie risorse, teoria del caos. C'è di che sospettare che non faccia piacere l'esistenza di paesi come l'Iran, con la loro moneta sovrana, artefici della loro politica nazionale e con il pieno controllo delle proprie risorse naturali, gestite in piena autonomia, condizione che ne evita lo sfruttamento da parte di multinazionali estere. Per concludere, c'è da osservare che in effetti i paesi europei per supportare gli Stati Uniti si trasformano in dei burattini nelle mani di Washington, che li sfrutta per avvantaggiarsi nella sua rivalità con Mosca. Invece l'Unione Europea dovrebbe fare dei passi verso la Russia nella direzione del dialogo e dell'allentamento delle tensioni, creando un sistema di difesa collettivo in Europa. Ma al contrario l'Unione Europea si sottomette, avvallando così, la violenza che gli Stati Uniti usano regolarmente per governare e sfruttare gli altri. Grazie. 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 Grazie.